Ieri sera insomma? Siamo stati in palestra. E chi abbiamo incontrato? Il nostro amico, Cesare. Il solito Cesare. Intanto, stasera è a cena con me a casa sua. E come dice Frank Sinatra? I did it my way. Ho fatto tutto a modo mio. Lui dice che è molto carina. Con me puoi parlare, puoi dire tutto quello che vuoi. E mi ha detto anche che probabilmente ci combinava qualcosa. Vado a vedere un attimo se il caffè è pronto. Ragazzi, a questo punto abbiamo il dovere morale di fare una telefonata.